Playoff NBA, Chicago aspetta Miami. Dopo l'eliminazione dei Lakers e dei Celtics, arriva la prima conferma dei playoff e considerando come sono andate le cose quest'anno, questa vorrebbe già essere una notizia. Se pensiamo che poi i Chicago Bulls raggiungono la finale playoff dopo oltre 13 anni di assenza, beh, allora è tutto dire. I Bulls hanno eliminato Atlanta a gara 6, il punteggio finale è risultato essere di 4 a 2 per Chicago. L'ultimo incontro di questa serie ha visto Rose e compagni imporsi per 93 e 73 sui falchi di Atlanta e almeno qui il pronostico iniziale è stato rispettato. Derrick Rose è stato nominato MVP della stagione e ha trascinato i suoi lì dove Chicago mancava dal 1998, quando arrivò all'ultimo titolo NBA, ma quella era l'epoca di un certo Michael Jordan. Contro Atlanta hanno brillato le stelle di Carlos Buzer, autore di 23 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, e ovviamente di Rose, che ha fatto mettere a rifletto ben 19 punti. La differenza finale di 20 punti radice lunga sull'andamento dell'incontro. Consolato alla grande da Chicago, già in vantaggio i 10 punti alla fine del primo quarto. Chicago per questa finale di Eastern Conference affronterà i Miami Heat di James LeBron, MVP delle due precedenti edizioni, con il vantaggio di cominciare la serie in casa. Durante la regular season, Chicago ha già conflitto due volte Miami.